Io a riguardo, non so nulla, ho letto anch'io come tutti i cittadini nel giornale, a livello sia politico, a livello di giunta non si è mai parlato di nulla di queste cose, quindi non so chi ha scritto l'articolo, chi ha comunicato, vedremo andando avanti di sviluppi, non posso dire nulla, non so nulla.